Le commemorazioni per i 25 anni della caduta del muro di Berlino rischiano di essere complicate dallo sciopero dei macchinisti. Una brutta notizia per i giorni in cui nella capitale tedesca sono attesi oltre 2 milioni di visitatori. I lavoratori chiedono un aumento salariale del 10% e una riduzione dell'orario di lavoro. Sono previsti 5 giorni di sciopero.